A Castione il Comune decide di vendere le quote della Monti del Sole. Chi le compra può realizzare un rifugio sullo Scanapà. Ieri sera in consiglio anche il Via Libera la diminuzione del Limu per negozi, artigiani e alberghi. Per due mattine semaforo di colzate lampeggiante, zero code e automobilisti contenti, ma si è trattato di un guasto subito sistemato. Anche in diverse piazze dei nostri paesi le uova di Pasqua dell'Ail contro leucemie, linfomi e mieloma, le offerte per progetti di ricerca e servizi di assistenza e cura agli ammalati. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Un cervo questa mattina è morto dopo essere stato investito da un'auto lungo la provinciale tra Clusone e Rovetta. Chi era alla guida si è trovato davanti l'animale all'improvviso e non ha potuto evitarlo. Le persone a bordo dell'auto non sono rimaste ferite. L'Opel Meriva ha però subito danni di una certa rilevanza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, accorsi anche gli agenti del nucleo ittico venatorio della polizia provinciale per occuparsi dello smaltimento della carcassa dell'animale. Pochi giorni di sole e subito ricominciano gli incendi boschivi in alta Val Seriana. Per l'ennesima volta questa mattina le fiamme si sono sviluppate lungo le pendici del pizzo Frola, Ponte Nossa. Il rogo è partito nella parte bassa a margine della strada provinciale verso le 11.30 in una delle poche zone non intaccate dai precedenti incendi. Le fiamme però non hanno trovato molto terreno per propagarsi anche perché la vegetazione rimasta ormai non è molta. Il pronto intervento del gruppo antincendio boschivo di Ponte Nossa ha poi permesso di contenere l'incendio spento in poco tempo. Voltiamo pagina. Consiglio comunale ieri sera a Castione l'amministrazione ha deciso di vendere le quote della Monti del Sole. Chi le comprerà potrà realizzare un rifugio sullo Scanapà. Ma ci sono novità che riguardano anche le tasse. Ecco avete approvato il bilancio di previsione e c'è una forte riduzione che riguarda l'Imo? Sì abbiamo approvato il bilancio di previsione in consiglio comunale e già quest'anno ci sarà una forte riduzione del Limo per quanto riguarda le due categorie, anzitutto i negozi e i laboratori artigiani in cui Limo passa dal 10,6 al 7,6 e gli alberghi di cui passa dall'8,6 al 7,6. Ha una politica di contenimento delle tariffe che va a invertire il trend della precedente amministrazione che le aveva sempre aumentate. Pensiamo che con un'attenta politica di bilancio di recuperare questi soldi come risparmi in spesa corrente, per cui di recuperare questi soldi con un attento monitoraggio a quelle che sono le spese del Comune. In sostanza un commerciante va a pagare il 30% di meno di quello che pagava lo scorso anno. È un modo per incentivare quella che ha una categoria importante che è il tessuto commerciale di Castione e che sta soffrendo in modo pesante la crisi. Il Consiglio Comunale ha poi mandato a me e al Sindaco di non fermarsi solo noi a fare i bravi, quelli che riducono l'Imu, ma di chiedere che lo Stato stesso riveda la politica fiscale sulla casa che sta penalizzando in modo pesante i cittadini. Credo che io come Sindaco di Castione, ma quasi tutti i sindaci, stanno vedendo la difficoltà delle famiglie di pagare l'Imu. È una difficoltà sempre più evidente. Le famiglie fanno fatica, fanno fatica soprattutto perché stanno pagando su un patrimonio che hanno costruito o ereditato dai loro genitori e che è costato fatica. Per cui andare a impoverire la gente non va bene, credo che lo Stato forse dovrebbe, assieme ai Comuni, cambiare completamente politica. E poi c'è anche un progetto molto interessante che riguarda lo Scanapà. Esatto, il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bando di gara per la vendita della Monti del Sole. La Monti del Sole è una società costituita da alcuni imprenditori del Comune nell'88 che ha realizzato, tra le altre cose, la seggiovia Scanapà. È una seggiovia che porta dal passo della Presolana allo Scanapà. Ora, per una serie di motivi legislativi, il Comune è costretto a vendere questa partecipazione e la mette sul mercato. Cosa succede? Che chi la acquisterà in asta, che verrà pubblicata a giorni, acquisterà di fatto la seggiovia Scanapà e acquisterà la possibilità di realizzare un rifugio sulla sommità del monto Scanapà, che prevederà un bar, un ristorante e delle camere. dove poter dormire. È un rilancio del passo della Presolana importante, perché finalmente viene a compimento una serie di attrezzature che servono ad andare. Oggi la seggiovia Scanapà è penalizzata dal fatto che si va sullo Scanapà e non si sa cosa farne. Un domani si va sullo Scanapà non solo perché è una bellissima terrazza sul paese, ma anche perché c'è un luogo attrattivo. In cambio il Comune dovrebbe ricevere ovviamente dalla vendita una cifra importante che supera in base d'asta i 400 mila euro e che impiegherà poi nel modo che riterremo opportuno e che valuteremo con il Consiglio Comunale. Seggiovia e rifugio, che potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti anche d'estate, non solo in inverno. Sì, l'esempio è un po' il termen che sta lavorando sia l'estate che d'inverno ed è un'attrattiva molto richiesta dai turisti. Io credo che a questo punto il passo della Presolana diventa un po' uno dei parchi attrattivi di spor minori anche del Comune. Non dimentichiamoci che dalla cima dello Scanapà si lanciano i voli del Taplani e queste cose qua, per cui diventa uno dei luoghi ancora di spor minori importanti del Comune. In due anni la Regione metterà a disposizione 1 milione e 800 mila euro per le stazioni sciistiche lombarde, fondi destinati agli impianti di risalita e ai sistemi di innevamento artificiali. Sentiamo. Dalla Regione arrivano nuovi fondi per le stazioni sciistiche lombarde. Su proposta dell'assessore allo sport e politiche giovanili Antonio Rossi, la Giunta ha deliberato i criteri per l'assegnazione dei contributi per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci con innevamento artificiale. Far vivere le montagne, che rappresentano il 40% del territorio lombardo, vuol dire far vivere l'economia lombarda con tutte le sue vallate e salvaguardare migliaia di posti di lavoro, commenta l'assessore, che ricorda come impianti di risalita e piste siano un fattore di competitività economica ed elemento turistico di traino anche per la Bergamasca. Vogliamo proseguire nella strada iniziata con i primi due bandi del 2013 e 2015, spiega ancora Rossi. Allora abbiamo aiutato i proprietari ad ammodernare le infrastrutture, offrendo un servizio sempre migliore e al passo con i tempi, che ha permesso alla Lombardia di essere leader nel settore. Oggi aiutiamo i gestori nella loro azione quotidiana di contenimento dei costi. Per la gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente verranno messi a disposizione 1,8 milioni di euro, di cui 400 mila nel bilancio 2017 e 1,4 milioni in quello del 2018. Speriamo, aggiunge Rossi, di poter implementare questi fondi arrivando al tetto massimo di 5 milioni. La delibera adottata vede tra i beneficiari soggetti pubblici e privati che alla data della presentazione della domanda siano gestori di impianti di risalita e di piste da sci presenti sul territorio lombardo e che potranno ricevere un contributo massimo di 125 mila euro. L'intervento consiste nell'assegnazione di contributi a fondo perduto per il sostegno della gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci con macchinari per la produzione di neve programmata. Tra le spese ammissibili i consumi di energia elettrica, quello di carburante dei mezzi per la battitura delle piste e per l'approvvigionamento idrico per la produzione di neve programmata. Partiamo adesso di viabilità per due mattine. Il semaforo di colzate in territorio di Casnigo ha funzionato con la luce gialla lampeggiante ma non si è trattato di una misura contro le code bensì di un guasto. Agli automobilisti che tutte le mattine percorrono la provinciale della valle seriana scendendo dall'alta valle non è parso vero trovare in questi due giorni il semaforo di colzate lampeggiante. Nessuna coda e traffico scorrevole. Qualcuno ha sperato fosse una soluzione definitiva almeno nell'orario di punta e invece si è trattato di un guasto roba di poco conto subito sistemata. Da domattina così come avviene solitamente dal lunedì al venerdì dopo le 7 il semaforo tornerà a funzionare con rosso giallo e verde. Da tempo molti automobilisti si lamentano per le code che si creano sulla provinciale soprattutto al mattino quando il semaforo funziona regolarmente. C'è chi invita a lasciarlo sempre l'appeggiante e chi a rimuoverlo del tutto. L'amministrazione comunale di Casningua a cui spetta la gestione di questo impianto ha sempre risposto che il semaforo lampeggiante provocherebbe problemi per chi deve uscire da colzate verso Clusone e dalle aree produttive vicine. Una breve interruzione del flusso di auto sulla provinciale invece facilita l'immissione sia da colzate sia dalle fabbriche. Una soluzione potrebbe essere installare un impianto intelligente capace di leggere il traffico e comportarsi di conseguenza ma il problema in questo caso sono i costi. Cambiamo argomento anche diverse piazze dei nostri paesi ospiteranno nei prossimi giorni i banchetti dell'AIL per la raccolta fondi contro leucemie, linfomi e mieloma. Diamo vita alla ricerca e lo slogan che contraddistingue l'iniziativa dell'AIL che sta per partire proprio in questi giorni e arriverà su tante piazze anche della provincia di Bergamo. Iniziativa contraddistinta dall'uovo di Pasqua all'uovo di cioccolato. Sì, saremo circa su 220 piazze della Bergamasca con 1.500 volontari, un carro da battaglia incredibile dedicato interamente a quello che è la raccolta fondi a favore dell'AIL della situazione a parlo belli. È un'iniziativa importante che vuol sensibilizzare ulteriormente quello che è la cittadinanza della Bergamasca qualora ce ne fosse bisogno perché la gente bergamasca ha un cuore grande quanto la capitale se non quanto l'intera Italia perché veramente la gente bergamasca si contraddistingue per questo. Siamo circa la seconda o la terza provincia in Italia per raccolta fondi per quanto riguarda l'AIL e vi discorrendo. 1.500 volontari, 1.500 persone che si dedicheranno nel prossimo weekend a quello che era la raccolta fondi. La raccolta fondi è destinata poi a sostenere le case di accoglienza per quanto riguarda gli ammalati e i loro accompagnatori e tante altre iniziative che permettono di supportare quelli che sono i centri di ricerca che abbiamo qui a Bergamo e soprattutto Giliberto Lanzani, un lavoratore di terapia cellulare che praticamente è affiancato all'ospedale di Bergamo e nella fattispecie al reparto di dermatologia per quanto riguarda la ricerca e lo sviluppo di farmaci di cura per gli ammalati di leucemia, mielomi e linfomi. Le uova che contraddistinguono questa campagna nazionale sono quelle che vedete alle mie spalle. Solo queste identificano l'AIL, l'associazione italiana delle leucemie. Perciò fate attenzione quando andrete sui banchetti, se chiedete le uova per la leucemia, le uniche uova per la leucemia sono queste. Dopodiché vi invito a sostenersi, nulla come sostenere la sezione di volontariato permette di continuare in maniera proficua ad aiutare gli ammalati e i centri di cura. E a questo punto io vorrei anche ringraziare tutte le amministrazioni comunali che hanno permesso, ci hanno dato il permesso di soggiornare, di allocarsi in piazza e ai parroci, bisogna dire grazie anche a loro, che ci hanno permesso di stare antistanti le chiese. Ho ringraziato in particolare queste persone che hanno avuto l'attenzione e la sensibilità di ospitarci nei loro luoghi. Veramente grazie di cuore e grazie soprattutto a chi di voi si avvicinerà ai nostri banchetti per acquistare o perché vi offriamo un uovo di parco. Sono 12 euro, può essere tanto, può essere poco, un euro al mese, non è più di tanto. Facciamo due, comprese le stelle di Natale. Ecco, tutto si svolge in questo discorso. La bontà e la verità dell'Aile, l'Associazione Paolo Belli di Bergamo, la potete constatare andando sui siti e vedendo cosa è stato fatto in questi 25 anni, perché quest'anno corre il 25esimo dell'Associazione Paolo Belli. In 25 anni sono stati riversati sul territorio a favore della comunità qualcosa come 25 milioni di euro. E questo la dice lunga sulla bontà nostra e di chi ci ha dato fiducia in questi anni. Ci fermiamo per una pausa. Al rientro parleremo di un libro dedicato alle donne in tempo di guerra e delle nuove rassegne al Cinema Garden di Clusone. A tra poco. Grazie a tutti. Riprendiamo con il telegiornale. Parliamo adesso di turismo partendo dall'idea di una ragazza di Leffe, Vittoria Radici, figlia del compianto Fausto Radici, sciatore ed imprenditore. L'abbiamo intervistata a margine della fiera di San Giuseppe a Gandino. Vittoria Radici è di Leffe e da poco ha aperto un blog che si chiama Autourism.net. Di cosa si occupa? Il mio sito si occupa di destination management, quindi diciamo il management delle destinazioni turistiche, ovvero ormai la destinazione turistica deve essere vista un po' come un'azienda, quindi anche lei deve trovare il suo posto sul mercato, deve capire quali sono i suoi punti di forza e quali sono i suoi punti di debolezza, riuscire a capire quali sono i clienti da attirare e appunto per poi sviluppare le attività migliori per questi clienti. E questo è il modo migliore per aumentare appunto le visite che diciamo sono, è l'obiettivo di tutti quanti, ma anche per rendere diciamo un po' più omogenea tutta la destinazione e far collaborare tutte le attività all'interno del luogo stesso. Come ti è venuta questa idea? Allora diciamo che io ho già lavorato un po' in quello che è il settore del turismo e della consulenza all'interno del turismo, dopo un master alla Bocconi appunto che riguardava il food and beverage e il turismo ho avuto l'opportunità di fare uno stage all'hotel Danieli a Venezia e già lì mi occupavo un po' di quello che era il destination management di Venezia e all'interno appunto dell'hotel Danieli. e dopo questa esperienza ho avuto di nuovo la fortuna di poter lavorare in una società di consulenza a Milano e di poter lavorare sullo sviluppo di una destinazione turistica montana importante e perciò li abbiamo seguiti un po' in tutto quello che era il management e il marketing della destinazione stessa e anche quello che era la crescita delle competenze all'interno del luogo stesso. A chi si rivolge soprattutto il blog? Chi potrebbe essere più interessato a connettersi? Il mio target vorrei che fossero appunto i manager delle destinazioni oppure i consulenti che aiutano i manager delle destinazioni a migliorare quelle che sono le visite e gli arrivi dei turisti. Quindi questo sarebbe il mio sogno, poi bisogna vedere se funzionerà o no. Come sta andando fino adesso? È da poco comunque che c'è? Sì, sì. Per ora diciamo che non è ancora molto ricco di articoli, quindi diciamo che siamo ancora nella prima fase dello sviluppo. Siamo a Gandino, ci hanno detto che ti sei occupata anche di mais spinato, soprattutto dal punto di vista turistico. Sì. Allora, quando ho lavorato al Danieli ho avuto modo di conoscere lo chef del Danieli Colucci e ho voluto appunto presentargli quello che secondo me è una nostra eccellenza perché devo dire che i nostri prodotti sono veramente molto buoni e dunque gli ho presentato quello che era il mais spinato e in particolar modo le gallette di mais e lui devo dire che se ne è proprio innamorato. Di conseguenza ha portato all'hotel Danieli qualche ricetta fatta con il mais spinato e siamo riusciti a collaborare un pochino con lui nonché a portare il mais spinato a una fiera che si faceva a Venezia appunto sui prodotti tipici. Quindi è stata una bella esperienza, devo dire, molto. Angeli senza gloria è il titolo del libro di Benia Panteghini dedicato alle donne in tempo di guerra. Ce ne parla l'autrice che sarà ospite nella prossima puntata di Oltre Confine in onda sabato sera. Mi hanno chiesto di parlare del mio nuovo libro, è uscito proprio appena la settimana scorsa, l'abbiamo presentato a Bienno che è il mio paese d'origine. È un libro sul ruolo delle donne in tempo di guerra. Sono partita dalla prima guerra mondiale, ho trovato delle storie delle nostre donne, io vengo dalla Val Grigna che è una piccola convalle della Val Camonica. Poi sono andata nella zona di Bergamo, nella zona di Brescia, ho trovato varie storie. Ho pensato poi di andare avanti lungo tutto il Novecento per vedere un po' come si trovavano queste donne, come si sono trovate nelle varie guerre. Ho parlato delle donne africane al tempo della cosiddetta conquista dell'impero. Ho parlato delle donne che hanno avuto i mariti in guerra nella Seconda Guerra, che sono rimaste vedove, erano magari già orfane della Prima Guerra. Ho cercato di collegare le varie storie. Queste donne, in fin dei conti, venivano ignorate un po' da tutti, perché erano sole, dovevano arrangiarsi, dovevano fare i mestieri degli uomini, i mestieri, tra virgolette, nel senso che hanno dovuto arrabattarsi per allevare questi bambini. Alla fine ho pensato di parlare anche delle guerre più recenti. Ho accennato alla guerra della Bosnia-Herzegovina perché mi erano rimasti impressi due fatti molto particolari che poi troveranno quelli che avranno voglia di leggere il libro. Alla fine ho parlato addirittura delle donne soldato kurde che combattono più e meglio degli uomini. Alla fine mi sono chiesta, gli uomini, gli eroi, secondo loro, quando vanno all'altro mondo, vengono accolti da 72 vergini. Io mi sono chiesta, queste donne che sono eroine, che combattono, che muoiono, che devono vivere dentro e fuori casa, che devono fare le mamme, le educatrici e anche le soldatesse, da chi saranno accolte quando vanno nell'aldilà? Forse il tempo è ancora troppo lontano, secondo le loro idee, è ancora un po' impossibile per queste donne riuscire a essere ammesse nella loro cerchia. Però quando devono lavorare, in questo senso, vengono accettate da tutti. Non so se ho dato un piccolo contributo allo studio della donna nelle sue varie situazioni. Vorrei specificare che non sono una femminista, cosa che a volte mi dicono. Io sono molto per le pari opportunità, perché se in guerra l'uomo combatte, rischia la vita e la donna non la rischia mai, non lo so, proviamo un po' a vedere se si riesce a dare un certo valore anche al mondo femminile. E adesso il cinema, biografie, docufilme e arte nelle rassegne del Garden di Clusone che scattano domani. Scopriamone di più. Questa settimana qui al Cinema Garden ripartono le rassegne. Sì, questa settimana ricominciamo con le nostre rassegne del mercoledì e del giovedì sera. Abbiamo la rassegna del mercoledì sera che sarà alquanto variegata, ovvero avremo quattro proposte di film biografici, quindi su alcune storie vere, quattro docufilme e due film sull'arte al cinema. Ad esempio uno sarà sull'arte di Monet. E poi continuerà la proposta, quindi aderiremo ancora al Cinema Todays. Quindi il secondo mercoledì del mese aderiremo ancora all'iniziativa proposta dallo Stato di far pagare l'ingresso a tutti a 2 euro per il mese di aprile e di maggio. E resta fisso l'appuntamento del giovedì? Sì, assolutamente. Il giovedì ricomincerà sempre con la rassegna di qualità, quindi inizieremo questo giovedì con la commedia francese Il Medico di Campania, che è una commedia molto divertente, ma anche riflessiva. Poi proseguiremo la settimana dopo con Moonlight, che è il vincitore come miglior film al premio Oscar del 2017 di quest'anno. Avremo poi in rassegna alcuni film di grandi autori come Martin Scorsese e il suo Silence e come Robert Zemeckis e l'ultimo film Allied. Inoltre mi sento di consigliarvi alcuni film come Solo la fine del mondo dell'enfant prodige Xavier Dolan, che è un autore giovanissimo, e Captain Fantastic con il fantastico Viggo Mortensen che ha avuto una fantastica interpretazione in questo film. Per le rassegne che vi ha appena proposto Luca, il Cinema Garden vi offre la possibilità di abbonarvi, per non perdere nessuno dei dieci film di qualità, a soli 35 euro. Vi ricordo però anche che continua la proposta di abbonamento per dieci ingressi, indipendentemente dal giorno e dalla produzione in 2D o in 3D. Gli abbonamenti sono tutti acquistabili presso la Cassa del Cinema negli orari di proiezione dei film. Seguitici per essere sempre aggiornati sulla nostra pagina Facebook Cinemagarda Inclusone o sul sito www.cinemaclusone.it Vi aspettiamo! E ora un altro viaggio alla scoperta del mondo degli animali con la rubrica Qua la zampa, cura del veterinario Stefano Gusmini. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario. Questa sera vorrei parlarvi del pedigree, in particolare il pedigree che riguarda i cani. Cosa significa questa parola pedigree? Non è altro che la genealogia, ovvero è un certificato rilasciato dall'ente nazionale cinofilia italiana che specifica il nome, il sesso, la data di nascita del soggetto di un cane di razza e ha anche tutti i suoi ascendenti, quindi genitori, nonni, trisnonni e fino a che 4-5 generazioni disponibili proprio all'interno del libro genealogico di quel soggetto, perché quel soggetto è di razza. Recentemente la Direzione Generale della Sanità ha emanato un parere riguardo al fatto se la possibilità di commercializzare dei soggetti senza pedigree o appunto non di razza. La cosa è praticamente in questi termini se voi vendete o acquistate un cane di razza, quindi definendolo un pastore tedesco, un pastore abruzzese, un animale quindi di razza deve essere accompagnato con il pedigree. Altrimenti se anche il cane è figlio di due soggetti di una specifica razza ma non possedete il pedigree, dovete metterlo in vendita o comunque in qualche modo cederlo e venderlo come soggetto non di razza, definendolo come meticcio oppure simil e poi il nome della razza, quindi simil pastore tedesco, simil barboncino, proprio perché non avete la possibilità di certificare questo tipo di certificato, di avere questa genealogia chiamata pedigree. Quindi fate un pochino attenzione soprattutto per chi lo svolge come professione ma anche per i privati che hanno delle cucciolate e vogliono metterle in vendita, se posseggono il pedigree possono pubblicizzare questa cosa come animale di razza altrimenti se l'animale viene ceduto senza pedigree bisognerà specificare nell'annuncio di vendita o comunque nella forma pubblicitaria che intendete effettuare che l'animale è un simil e la razza a cui assomiglia molto o a cui appartiene ma se non avete il pedigree non potete proprio venderlo come animale di razza. Per questa sera è tutto, ci vediamo settimana prossima con un nuovo appuntamento di Quala Zampa. Arrivederci! Una breve pausa e poi la parte finale. A tra poco. Ci avviamo alla conclusione del telegiornale anzitutto con la pagina degli auguri che questa sera è dedicata a Marica Di Ardesio che compie 11 anni. Tanti auguri da Amadio, Giovanna, Simone e Mari. Buon compleanno anche da parte di Antenna 2. Adesso i programmi sulla nostra emittente. Questa sera il canale principale alle 20.40 propone un nuovo appuntamento con il sasso nello stagno. si parlerà di pensionati. Tony Tranquillo è stato a Gandino. Alle 21.20 Antenna 2 Sport a cura di Lorenzo Norris. Alle 22.30 la seconda edizione del TG. Alle 23.10 tempi supplementari. Il canale 218 alle 20.45 in diretta dalla chiesa di Fino del Monte camminare insieme nella gioia del Vangelo. A seguire il telegiornale. Alle 22.10 invece l'anteprima Target che questa sera è dedicata ai 130 anni del corpo musicale di Vertova. Il canale 628 Antenna 2 Sport alle 20.30 la partita di calcio Albino Gandino Mapello Bonate alle 22.10 la pallacanestro femminile di serie A2 con la partita Fassi Albino Geas. E adesso l'Almanacco domani è mercoledì 29 marzo il sole sorge alle 7.01 e tramonta alle 19.49 la luna è nuova sorge alle 8.05 tramonta alle 21.31 la chiesa ricorta San Secondo Martire. E infine le previsioni del tempo domani su Alpi e Prealpi Lombarde cielo in prevalenza sereno debole sviluppo di cumuli al pomeriggio temperature senza variazioni di rilievo. E con il meteo è tutto grazie per averci seguito e buona serata. Grazie a tutti.